Nicola Molteni, la Lega Nord dice che questo svuotacarceli favorisce la mafia, perché? Perché è un regalo alla criminalità organizzata, perché con il principio della liberazione anticipata speciale si dà uno sconto di pena, una buono, ogni sei mesi con affetto retrattivo dal 2010, di 75 giorni ai mafiosi, ai criminali, a quelli che hanno commesso reati gravissimi. Un anno di pena, sono sette mesi di carcere e cinque mesi di sconto. Una vergogna è un favore alla mafia, è un favore alla criminalità organizzata, è l'ennesimo colpo mortale alla sicurezza dei cittadini, lo Stato che si arrende di fronte alla criminalità esattamente nel momento in cui i cittadini, i sindaci, le persone per bene, chiedono più sicurezza, più tutela e più ordine pubblico. Questo è un colpo mortale non solo alla sicurezza, ma anche al lavoro delle forze dell'ordine, che con fatica cercano di garantire la sicurezza sul territorio. Questo decreto rimette in libertà, rimetterà in libertà migliaia di criminali. La Lega è stata l'unica forza politica e siamo gli unici che faremo di tutto per bloccare questo provvedimento che è un'infamia assoluta. Un regalo anche alla criminalità organizzata che gestisce lo spaccio di droga? È un regalo ai mafiosi, è un regalo agli spacciatori. Chi dice che con questo provvedimento non si concedono dei benefici e degli sconti di pena, quindi dei regali a mafiosi, racconta delle bugie clamorose. Ci sono già due mafiosi, Ribisi e Vellino, che sono stati condannati per mafia, per associazione mafiosa, che grazie a questo decreto sono tornati in libertà, alla faccia di tutti i paladini, di tutti i professionisti dell'antimafia, dell'antimafia e delle chiacchiere. La Lega ha fatto l'antimafia delle parole con il ministro Roberto Maroni e questo provvedimento che, ripeto, rappresenta la più grande vergogna, il più grande insulto nei confronti delle vittime e dei reati, ne è la rappresentazione peggiore. Questo governo si deve vergognare di continuare ad approvare questi provvedimenti. In questo provvedimento però c'è una vittoria della Lega, ovvero cosa? È una vittoria della Lega. Le nostre battaglie, le nostre dure battaglie in Commissione, hanno portato al fatto che sia stata tolta un'ennesima vergogna. Nel decreto erano previsti 100 euro di risarcimento a favore dei detenuti. Milioni di euro in un anno, nel momento in cui al detenuto non veniva riconosciuto un preteso diritto. La nostra battaglia in Commissione, la nostra guerra sui pochi emendamenti che ci hanno fatto discutere ha portato a che almeno questa neffandezza sia stata tolta. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto, ma ovviamente il giudizio complessivo su questo svuotacarcio, su questo ennesimo indulto mascherato, che non è nulla di più che le premesse di un vero indulto che questa maggioranza dovrà prima o poi portare. Come sempre la Lega è da sola contro tutti, ma insieme a migliaia di cittadini, a milioni di cittadini onesti e per bene. La Lega è l'unica garanzia contro certe porcherie che vengono fatte qua in Parlamento, dal Governo e dalla maggioranza del PD.